buonasera a tutti vorrei complimentarmi con tutti i cittadini italiani si vede che sono innamorati del nostro paese i risultati sono lampanti e sotto gli occhi di tutti domani posso ufficializzare che l'autocertificazione rimarrà quella di oggi purtroppo negli ultimi giorni sono aumentati gli scippi nei supermercati vorrei dire a coloro che si recano con le brutte intenzioni per fare scorte di cibo di non rubare chiedete e vi sarà dato il governo c'è il governo vi è vicino sono stati stanziati 12 milioni di barattoli di fagioli borlotti per aiutare coloro che non mangiando soffrono di stitichezza chiedo un ulteriore ed ultimo e piccolo sforzo agli italiani questa notte alle ore 3 ci sarà l'ora legale mettete le lancette indietro di un'ora e accettate che la vostra reclusione aumenterà di 60 minuti insieme ce la faremo